Ecco, mia Martini è alla mia sinistra. Mi hai fatto rivedere una cosa che non l'avevo mai vista, è la prima volta che la vedo, bellissima. Poi abbiamo... Emozionata. Un po' emozionata. Ti emozioni spesso tu? Ti emozioni spesso? Io mi emoziono, ultimamente sì, mi sta capitando dove frequento, come dice il dottore, sarà preoccupante. Perché ti emozioni? Da quando sono stata a Sanremo è un'emozione continua. Quali sono le cose che ti fanno emozionare di più? Sapere di riuscire a emozionare tanta gente. Infatti c'erano alcune nostre optiche che avvertivano dei brividi. Presentiamo i nostri optiche. Pleghiamo invece Mietta, che è un po' più avanti, ovviamente, di Angola e forse leggermente più indietro, scusa, di Mia Martini. È molto più indietro. Anche se poi hai vinto a Sanremo, praticamente. Non significa nulla. Come hai cominciato tu? È terrorizzata, Mietta è terrorizzata. Scusami, vincere un peccato di Sanremo non significa niente? Ecco, significa moltissimo. Lei dice che non significa niente. No, è niente. Secondo me forse Sanremo significava all'epoca, dieci anni fa, qualcosa del genere, perché secondo me adesso sta diventando... non lo so, ci sono delle responsabilità, c'è più gente che ti ascolta, ci sono delle paure, ci sono anche le idee che non siano chiare, anche per me è la stessa cosa. E' solo a te, nel contesto di questo, saremmo. Ma io lo vivo, adesso sto cercando di viverlo con... Ti ha dato un grande successo, stai avendo un successo bellissimo, stai vivendo un momento emozionante. Ma io sto gorendo questo successo, però sto cercando anche di stare con i piedi per terra, perché se io incomincio a pensare che sono arrivata... Troppo con i piedi per terra, è bello stare con i piedi per terra, però ogni tanto la testa è anche fare nuove. Ma per me Sanremo è stato un punto di partenza, non ho cominciato un punto di arrivo. Tu come hai cominciato? Io ho cominciato come vuole cominciare lei, cioè facendo delle serate con dei miei amici, con un gruppo e cercando di darmi da fare. Per me all'inizio non è stata una carriera voluta per passione. Tu hai 19 anni, mi dicevo, hai cominciato 4 anni, quindi dove? A Taranto, la tua città di origine? Ho cominciato a Taranto con dei miei amici, abbiamo formato questo gruppo, niente, siamo andati in giro a fare delle serate. Ci siamo divertiti e io lì ho cominciato a capire che realmente avevo voglia di cantare, perché mi piaceva. Che cosa scatta? Cioè quando nasce un amore, qualcosa, una scintilla, un campanello d'allarme, c'è? Sì. Quando nasce una cantante, che cosa scatta? Personalmente è successo questo, io ero lì in sala prove con questi miei amici e ho cantato una canzone di Fatti Bravo. la bambola. Nel momento in cui ho cantato ho sentito qualcosa dentro che purtroppo a quell'età non riesce a capire che cos'è, se è passione, se è voglia di fare delle cose nuove, se è entrare in un mondo diverso da quello che tu hai della tua famiglia, cercare di diventare, di distinguerti. Invece poi ho scoperto, mentre facevo queste serate, quindi andavo in giro con il gruppo, che capivo delle cose mie, cioè incominciavo a crescere, sia io come persona, sia culturalmente per quanto riguarda questa attività. E poi il grande salto a Serremo? È avvenuto molto più semplicemente di quello che uno si aspetta. Ho fatto un concorso che ho vinto, era bandito dalla Fonincetra, Radio Corriere, Rai, era su Radio Uno. Sì, un concorso normale, ho vinto, mi sono improvvisata attrice, infatti ho cominciato ad assimilare dalla gente che mi stava attorno, il tipo dei doppiatori italiani che mi hanno aiutato. Mia, come sono i giovani che incominciano e che, come appunto Mietta, già fanno bene? Cioè c'è una preparazione? Sì, c'è una preparazione mia. C'è un ricambio anche generazionale? Mietta, devo dire che è molto brava, molto intelligente, è una ragazza molto sensibile. Secondo me dovrebbe togliersi un po' di paure, dovrebbe essere un pochino, soltanto un pochino più rilassata.